Ciao, oggi parliamo di un argomento molto particolare, parliamo del vittimismo. Molte persone che conosco e che incontro, con cui lavoro, sia negli individuali che nei gruppi, mi dicono ma capitano tutte a me, continuano ad accadermi delle cose terribili nella mia vita, oppure si ripetono sempre gli stessi schemi. Quindi, allora, teniamo conto che la vittima è una parte integrante del processo di sfiga, mi spiego meglio. Non esistono carnefici se non ci sono persone che si immolano ad essere le vittime. Questo sembra quasi che non possa cambiare, invece questo può cambiare, ti assicuro che può cambiare. Il fatto è che le persone cercano sempre all'esterno la soluzione ai loro guai e non funziona, assolutamente non funziona. La soluzione è sempre dentro di te, perché se tu non cambi la tua vibrazione, quello che tu sei, l'esterno non potrà mai cambiare. Capisco che in certi momenti è difficile, anche io sono un essere umano, anche io ho le mie sfide. Ma sappi che se tu non cambi la tua vibrazione e quello che tu senti, pensi della vita, i tuoi pensieri e tutto quello che tu sei, la tua focalizzazione, le cose attorno a te non potranno mai cambiare. Quindi ricordati sempre di fare attenzione alla tua vibrazione e a quello che sei. E anche se in certi momenti può sembrarti molto difficile, puoi avere tutta la mia comprensione di essere umano, ma sappi che se non parti da lì le cose non possono cambiare. Quindi ricordati di questo e datti da fare, vedrai che ce la farai. Ciao, un abbraccio, a presto! Ciao!